Il Movimento 5 Stelle vuole che gli incarichi negli uffici di presidenza siano un servizio reso alla collettività svolta dai cittadini per un periodo limitato. Per questo motivo su Facebook il deputato ebolidano Cosimo Adelizzi, portavoce del Movimento 5 Stelle alla Camera, ha scritto «Rinuncio totalmente, con effetto immediato all'indennità di carica che mi spetterebbe come vicepresidente della Commissione bicamerale per la semplificazione. Sono 6.500 euro all'anno, pari a quasi 30.000 euro alla fine di questa legislatura. Questo risparmio di risorse pubbliche si andrà ad aggiungere all'attaglio del mio stipendio mensile da deputato, prosegue Adelizzi. Queste sono piccole cose rispetto ai grandi problemi economici che affliggono il Paese, ma sono segnali importanti per dire agli italiani che le cose stanno davvero cambiando. Il 2019 sarà l'anno della riduzione anche del numero dei senatori e dei deputati e del taglio degli stipendi di tutti i parlamentari. Conclude.